Ah, senta, farò domanda come assistente universitario e mi sarebbe utile una lettera di raccomandazione. Scrivendola, invece di usare nomi femminili, potrebbe riferirsi a me come Dottor Dorian. Avrebbe un'aria più professionale e, sa, una parte di me muore ogni volta che lei mi chiama con un nome di donna. Ascolta, Janice Denis Tiffany, Ambra Sofia!